Soltanto il 32% delle scuole italiane risulta accessibile per gli alunni disabili. Ancora più difficile la situazione nel sud dove soltanto il 26% degli edifici è a norma maglia nera al Molise, a braccetto con la Campania con il 22%, mentre la situazione è migliore al nord dove i valori raggiungono il 40%. A dirlo il rapporto Istat, l'inclusione scolastica, accessibilità, qualità delle offerte caratteristiche degli alunni con sostegno relativo all'anno scolastico 2017-2018. Nel report vengono definite accessibili dal punto di vista fisico-strutturale solo le scuole che possiedono tutte le caratteristiche a norma, ascensori, bagni, porte, scale e che dispongono di rampe esterne o servoscala. Per la prima volta nell'indagine sono incluse anche la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di secondo grado. Si tratta complessivamente di 56.690 scuole frequentate da 272.167 alunni con sostegno che rappresentano il 3,1% del totale. Il quadro peggiora considerando la presenza di barriere senso percettive. La percentuale di scuole accessibili scende in questo caso al 18%, il 13% nel sud in cui rientra anche il Molise. Insomma ancora tanto va fatto per il superamento delle barriere architettoniche per garantire come diritti e principio democratico i servizi a tutti. Nelle scuole poi c'è da rimboccarsi le maniche accelerando l'attuazione della sicurezza in un territorio vulnerabile come quello italiano.